Tutto il mensile delle 32 pagine sono dedicate all'impresa di fiume con grandi firme, Marcello Veneziani, Giordano Bruno Guerri, Parlato, Gian Paolo E, Alessandro Sanzoni, Laura Tecce, insomma grandi firme della cultura italiana che raccontano questa straordinaria impresa fatta 100 anni fa da Annunzio con i suoi legionari. È un mensile che trovate in edicola, in allegato al giornale ma in realtà è una testata indipendente che si può acquistare anche da sola, lo troverete per tutto il mese e sta avendo un grande successo. Siamo nati sei mesi fa, pensate nell'epoca delle piattaforme, noi mettiamo in edicola un mensile cartaceo, siamo dei pazzi ma ci stanno seguendo migliaia e migliaia di italiani perché raccontiamo la bellezza e la cultura del nostro paese. Ogni regione ha una pagina dove racconta gli eventi culturali, l'identità del proprio territorio, della nazione più bella del mondo che noi italiani spesso non sappiamo valorizzare.